Si è concluso con la prescrizione il processo Breakfast a carico dell'ex ministro dell'Interno e attuale sindaco di Imperia Claudio Scaiola. Lo ha deciso alla prima sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria che nella sentenza ha confermato anche l'assoluzione già decisa in primo grado per altri due imputati, ex collaboratori dell'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena. Matacena è morto il 16 settembre 2022 a Dubai dove si era rifugiato da dieci anni dopo essere stato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione a conclusione del processo Olimpia per concorso esterno in associazione mafiosa. Condannato in primo grado a due anni Scaiola era accusato di procurata in osservanza della pena, reato che avrebbe commesso in favore di Matacena essendo venuta meno l'aggravante mafiosa nel dibattimento di primo grado era stata la stessa procura generale nel corso della requisitoria tenuta lo scorso novembre a chiedere nei confronti di Scaiola il non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione.